15 marzo 2018 Milano, ci stiamo giocando un pezzo importante di stagione e non bisogna sprecare inutilmente energie ma pensare a quali sono i nostri obiettivi. Pro le sagge e quelle di Mattia Desciglio, che analizza anche la strigliata di Allegri nei confronti di Banatia nel finale di Juve Atalanta. Un allenatore che capisce i momenti dice del tecnico toscano ci sono quelli, durante la settimana, in cui viene scherza con tutti noi e altri in cui bisogna stare sul pezzo e ti richiama l'ordine subito, come successo ieri con Banatia. Molto attento a queste cose? Desciglio, apertura alla Bonucci, e i tifosi della Juve gradiscono un gol pesantissimo, Desciglio riconosce al successo di ieri della Juventus una grande valenza nella corsa a Scudetto, ancora lunga e ci sono gli scontri diretti ha spiegato ai microfoni di Sky Sport, ma questa vittoria ci ha dato una grande spinta. La vera svolta della stagione, per, arrivata con il gol di Dybala al novantatresimo minuto contro la Lazio dal punto di vista mentale ci ha dato una spinta in P per credere a questo Scudetto.